Buon venerdì amici Gobbi e soprattutto buon compleanno a noi oggi, è il compleanno della nostra vecchia signora dove sta vivendo negli ultimi anni un po' di difficoltà, ma questo ciclicamente ogni tanto avviene prima di riprendere la strada giusta che per noi la strada giusta si sa quale è quella di tornare ad essere super competitivi e vincenti, perciò vedremo questa stagione come si evolverà. Diciamo che è una stagione dove stiamo balbettando, calcisticamente parlando e non va assolutamente bene, la mia rubrica, Frank Pagella, dove tanti dicono ma che cavolo va inutile, io accetto sempre tutte le opinioni critiche, costruttive, i denigratori, ovviamente mi passano di dosso e me ne frega meno di zero quelli che hanno sempre pronto l'insulto e a me, ripeto, frega meno di zero. E' innegabile che stiamo vivendo un momento di difficoltà, è innegabile che ci sono delle cose, lo dico tranquillamente, che non pensavo di Tiago Motta, quello di essere quasi a volte andare muro contro muro con quello che dovrebbe essere la cosa logica, che è la cosa logica della Juve, fai giocare quelli più forti, fai giocare quelli che stanno meglio, poi vediamo in futuro cosa succederà. Ma sembra a volte che ti sfida, sembra a volte che deve andare oltre quelle che secondo me sono le cose logiche, come la presenza di Hildiz dopo che ha fatto una doppietta a Milano, come Danilo non è presentabile su questo campo, perché poi le risposte le dà, come diciamo sempre, il campo. Ma il problema della Juve parte da lontano, non è quest'anno, sono anni che ci sono dei problemi. Io lo ripeterò sempre fino alla fine, perché deve essere anche qui il motto. Io non dovrò mettere nel mio albodoro che abbiamo abbassato l'età media, che abbiamo abbassato il monte in gaggi, quella è una cosa societaria, ognuno fa quello che vuole. Ma ripeto che anche se sei giovane, devi avere carattere per stare nella Juve, e finora dei giovani che ha carattere per stare nella Juve è consensato, questo si può dire tranquillamente. Il Parma ci ha suclassato anche dal punto di vista fisico, di gioco, intensità, è stato più pericoloso di noi. E quando una squadra come il Parma, con tutto il rispetto, allenata benissimo da Pecchia, persona sempre per bene, mai fuori le righe, nostro ex allenatore, non ex generale, nostro ex giocatore, non è per questo che non è una brava persona, è una brava persona e si vede anche quando parla, nella dopo partita, se i giocatori a fine partita, sia lui, erano amareggiati per essere usciti da lo Juventus Stadium o l'Allianz Stadium in questo momento, con il pareggio, ci dobbiamo fare delle domande. Ma questa è una cosa che succede da mesi, da anni, che le squadre avversarie quasi ci vengono a sfidare a petto in fuori, dobbiamo tornare a fare un po' di, non dico paura calcistica, a dargli un po' di timore agli avversari. Questa cosa non succede e dico ancora una cosa, che il mister deve essere meno intransigente, deve giocare con i più forti, ripeto, e poi vedremo dove possiamo arrivare. Anche se ci sono gli infortuni, l'aribi degli infortuni regge e allora ci si compatta, allora si fanno giocare quelli che in questo momento sono i migliori, quelli che in questo momento stanno meglio, per cercare di portare punti a casa. Col Parma c'era da fare una cosa, come diciamo col Cagliari, portare tre punti a casa. Questo si doveva fare. Poi a qualcuno non piace, ma bisogna guardare ogni tanto alla polpa, anziché al contorno. Perciò bisogna portare i tre punti a casa, perché poi dà sempre più fiducia, perché ora cosa succede? Andremo a Udine, ne parleremo dopo. Questa è la Frank Pagelle di Juve Parma e comincia a dire che Di Gregorio, cinque, ha fatto quella bella uscita, grazie anche all'errore dell'attaccante del Parma nel secondo tempo, ma Di Gregorio sul secondo gol ha parecchie copie, può succedere a tutti, ha fatto un'ottima stagione fin qua, ma può succedere alla partita non buona, perciò per me prende cinque, perché quel gol secondo me ha parecchie responsabilità lui, perché ripeto, anche se un giocatore, un compagno, un difensore sbaglia, non è che poi dobbiamo fare a catena tutti gli errori per far sì che poi l'avversario vada in gol, perciò per me... Cinque. Poi, Gatti. Allora, Gatti io non so, non so Gatti cosa è successo con il mister, il mister ci dice nulla, secondo me non è vero, perché si vede dalla faccia di Gatti che ha un po' di scoramento, e questa è un'altra cosa che direi a Motta, fossi un suo amico, un suo parente, una persona vicina, basta rotture di palle che se non vado d'accordo faccio una discussione con uno per tre o quattro partite e non si vedono, soprattutto perché con l'infortuno di Bremer e con un Danilo così impresentabile tu devi far giocarti, tappi il naso, te la risolvi in un'altra maniera ma non te la devi prendere con la Juve, perché la Juve ci rimettiamo noi, cioè non c'è, non ci deve essere tipo l'asilo che tu mi hai fatto arrabbiare e non ti faccio giocare, no, non è così, perché sennò poi si perde lo spogliatoio dalle mani, ricordiamocelo sempre. Danilo, impresentabile, ti accorgi dal punto di vista mentale che Danilo non è in condizione di giocare quel passaggio che fa nel secondo tempo dove chiede poi a tutto lo stadio scusa a mezza altezza col piattone, va all'indietro, va in calcio d'angolo, perciò c'è poco da dire, quattro e mezzo, quattro a Danilo, tre, quello che vogliamo, ma ricordatevi non prendiamo solo Danilo come capo espriatorio ancora di più contro il Parma, perché col Parma tantissimi giocatori sono stati a basso, diciamo, a basso livello da tutti i punti di vista. Cabal, Cabal cinque e mezzo, ho cercato di fare qualcosa ma anche lui poca roba, io ripeto, cambiare troppo, cambiare sempre per poi non cambiare nulla, secondo me alla fine si si può andare a scontrare contro un muro. Cambiasso. Cambiasso ovviamente c'è che è d'accordo, chi no con me ci mancherebbe altro, questo è il bello anche di avere opinioni differenti, ma Cambiasso è letteralmente spesso deleterio per le palle che perde, per i passaggi che manda in fallo laterale, per le non coperture in difesa, poi offensivamente ogni tanto fa due o tre dribbling, allarga la palla sui compagni, può succedere qualcosa, ma la partita va vista, io l'ho rivista, va vista un po' in tutto il complesso, e secondo me Cambiasso c'è parecchie lacune, ricordiamo che Cambiasso non era titolare a Bologna, con Tiago Motta, non è un titolare fisso, la seconda parte abbastanza, ma non è un titolare fisso, io continuo a pensare che bisogna specializzare i giocatori nei propri ruoli, quando acquisiscono esperienza e personalità, riescono a gestire anche altri ruoli, ma mandarlo a sinistra, a destra, alto, basso, intanto lo fai sembrare come indispensabile, nella Juve tutti sono utili, nessuno è indispensabile, questo deve entrare secondo me nella testa di tutti, perché la Juve è la Juve, dobbiamo ritornare a dire questa parola, io non la dico così tanto per, ma nessuno deve essere indispensabile, possono essere utili per la Juve, ma devono essere utili per la Juve per noi, non per i loro comodi, o perché loro hanno un hype attraverso i tifosi ben strutturata, detto questo, andiamo al centrocampo, Locatelli è stato il migliore dei centrocampisti, bisogna dirlo, ancora di più nel secondo tempo contro il Parma, io li do un 6,5, e quando do 6,5 a Locatelli, dico che è stato il migliore dei centrocampisti, ci dobbiamo fare una domanda, perché Locatelli non ti alzerà mai il livello di una squadra, e non sarà mai un giocatore di una squadra vincente, duratura, e che ti dà ritmo, e che ti dà intensità, che ti dà idee, però, tatticamente non si può dire mai nulla, e come dico sempre, impegno, volontà, voglia di esserci, questo non li viene mai negato, Turam, parlatemene voi, io lo dico da un po', poi io devo essere smentito, e spero sempre vivamente di essere smentito, stilisticamente non si può guardare, corsa non la usa, non calcia mai da fuori, non si inserisce mai bene, recupera pochissimi palloni, io non so che giocatore è, ripeto, c'è qualcuno che ha detto è fortissimo, a quell'altro che stava l'anno scorso, lì può soltanto al momento, perché è giovane, diventerà il centrocampista più grande del mondo, allacciare i lacci, però si chiama Turam, perché lui parte sempre da una base molto solida, il cognome, quello forte, ce l'hanno gli altri, vedremo poi come sarà il futuro, McKennie, McKennie non l'avrei mai sostituito, è quello più pericoloso della Juve, primo tempo è lui che fa gol, è lui che fa quel tiro, dove poi ci arriva l'errore dell'attaccante, ed è uno che allunga sempre la squadra avversaria, è uno che cerca di fare qualcosa anche in fase offensiva, perciò secondo me non andava sostituito, anche se metti, perché là poi è un segnale che devi dare alla squadra, che io voglio vincere, bisognava portare i tre punti a casa, poi parlavamo della prestazione, ognuno poi poteva dire la sua, Consensau, Consensau 7, perché Consensau stranamente, questa volta oltre alle idee di gioco, si andava sempre su Consensau, per cercare uno contro uno, ma dall'altra parte Koulibaly che l'ho visto, ha messo in difficoltà tutti, gli esterni anche quelli veloci, Pulisic per esempio col Milan, Koulibaly è uno che non ti lascia mai spazio, non ti lascia mai l'opportunità, e se perdi il passo in due secondi già ti ha ripreso, perché c'è velocità, gamba, fisicità, letture, ottima lettura, perciò questo va detto, ma Consensau per ora è l'unica luce che si vede, questa strada un po' tortuosa, un po' buia, e ripeto per i meno ambienti, che è anni che è così la Juve, perciò non è oggi, o non è motta, o non è allegro, o non era pirlo, è anni che è così la Juve, perciò dobbiamo riprendere la strada quella giusta, UE ha fatto gol, si è mosso da attaccante, UE ha che si muove da centro avanti, che taglia spesso sul primo, il gol è stato bello, bravo Consensau, è bello anche la chiusura, ha fatto un altro a Milano, ha fatto un tiro a Milano, ne ha provato un altro contro il Parma, perciò è un giocatore vivo, ma io avrei messo Ildiz, perché Ildiz veniva da una doppietta pesantissima, a Milano, perciò do 6 e mezzo a UE ha, e McKennie 6 e mezzo, scusate non ho dato il voto, 6 e mezzo anche a McKennie, veniamo a Vlaovic, l'intoccabile Vlaovic, oltre a non avere il sostituto, e ci sta, parlare di stanchezza sul gol sbagliato, ancora una volta a un metro, perché non era fuori gioco, poi il Guardalini ha alzato la bandierina, ma vuoi avere in gioco, perciò l'attaccante cattivo deve mettere la palla dentro, poi vediamo se è fuori gioco o meno, come è successo nel secondo tempo, su quel tiro, la butta alle stelle, ma se tu a 3 metri mi sbagli, altro gol, dove vai col destro ed è finita la storia, ma vai col sinistro e devi segnare, vai con il copo di testa, vai con il petto, vai con qualcosa, perché devi portare a casa i tre punti, beh, i gol sono sicuramente quelli di più i suoi, a me dei gol fatti da 30 metri a giro, me ne frega meno di zero, perché quelli non devono essere certi, e non sono, non sono facili da fare, ma non sono quelli che mi aspetto da un centro avanti, beh, Cagliari e Parma, magari avremmo perso lo stesso, ma intanto possiamo dire che potevano essere 4 punti in più potenziali per la Juve, poi abbiamo segnato dopo l'1-1, però tu segnavi subito, però quei gol li devi fare, anche se eravamo 4-0 sul col Parma, o 4-0 per noi, quei gol li devi sempre fare, perciò 4 e mezzo dal mio punto di vista, come ho sempre detto, puoi anche sbagliare la prestazione, ma se mi fai due gol, è sempre otto in pagella per un attaccante, così se mi sbagli da tre metri, è ancora peggio di quello che col Cagliari, beh, stiamo parlando di nulla, Savona, è entrato bene, 5-5 e mezzo, Fagioli, ha fatto quel tiro a mezza altezza, io li do 6, perché è entrato abbastanza bene, io credo che Fagioli deve, se vuoi fare possesso palla, deve sempre giocare, visto che non hai Coupe e Douglas Lewis, perciò non so a volte delle idee, se mi dici che vuoi fare possesso, e metti Locatelli, Turam e McKennie, ci sono un po' delle contraddizioni, secondo me. Il Dizio ha cercato di fare qualcosa, ha rischiato di fare gol al novantesimo, gli do 6, vediamo poi com'è, può andare a finire, e non so che altro è entrato, lo vediamo, Coupe Miners, Coupe Miners ha fatto 20 minuti, che si vedeva che non stava assolutamente bene, nella corsa, non era fluido, ma è quello che si muove sempre meglio, senza palla, perciò ha dato anche qualche idea, contro il Parma, quando è entrato, sperando che per domani possa star bene, perciò Coupe Miners 6. questi siamo, questi 4 che sono entrati, all'allenatore 5, perché si valuta partita per partita, secondo me le idee sono discutibili, si deve un po' ammorbidire, deve essere un po' più pratico, perché i 3 punti servono come il pane, anche a Udine sarà così, ciao a tutti da Frank, ditemi cosa ne pensate, buona giornata, e fino alla fine, forza Juve, auguri Juventus.